Un piacere aver vinto questa semifinale contro una squadra tosta fisica che ci ha messo in grossa difficoltà però dal terzo e quarto quarto siamo stati più bravi e poi giocare qui per me è sempre una cosa speciale sono nato cestisticamente qui, ho vissuto delle fantastiche emozioni qui al palazzetto a Casale Monferrato quindi riuscire a giocare qui con Varese, vincere è veramente una cosa bella, sarebbe davvero bello non voglio tifare per nessuno però dai spero di giocare domani la finale con Casale Monferrato perché avrei voglia di vedere tanta gente, qui mi sento veramente a casa ed è veramente super